Qual è la differenza tra migranti e rifugiati? I paesi europei applicano tutti le stesse procedure nel trattare i loro casi? I migranti per definizione sono persone che si spostano da un luogo a un altro I rifugiati sono coloro che lo fanno perché cercano protezione poiché fuggono da un grande pericolo per la loro vita, per la loro integrità fisica e cercano un rifugio, una protezione che non hanno nel loro paese d'origine La definizione di rifugiato si trova nella Convenzione di Ginevra del 1951 un testo scritto nel dopoguerra Oggi 145 stati nel mondo l'hanno ratificata Questa convenzione prevede che un rifugiato è una persona perseguitata o che teme di essere perseguitata per motivi legati alla sua razza alla sua religione, alla sua nazionalità alla sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche Sono queste le categorie prese in considerazione dalla Convenzione Poi gli stati sono liberi di aggiungere strumenti di protezione complementari Ad esempio in Francia c'è una protezione sussidiaria per le persone vittime di una situazione di violenza generalizzata Da una quindicina di anni l'Unione Europea e gli stati membri cercano di dotarsi di un regime di asilo europeo comune Questo attraverso un insieme di direttive chiave C'è ad esempio la direttiva procedura che fissa le condizioni per l'esame di una richiesta d'asilo Questa direttiva è stata rivista due anni fa e la sua nuova versione entra in vigore il prossimo 20 luglio Si anche voi volete inviarci una domanda recatevi sul sito di Euronews o sulle nostre pagine social